Andiamo a vedere come funziona la ricarica domestica della nostra ID.3. Col cavo in dotazione per la ricarica domestica caricheremo la nostra ID.3 esattamente come facciamo con i nostri cellulari. Con questo cavo raggiungiamo una potenza di carica di 2 kWh, è quindi consigliato per le ricariche notturne. La seconda possibilità è quella di andare a installare nelle nostre case una wallbox, che ci consente di raggiungere una potenza di carica di ben 11 kWh. Questo va a diminuire drasticamente i tempi di ricarica. Se vuoi maggiori informazioni, guarda gli altri tutorial o contattaci. Grazie. Grazie.